è il nuovo cammino inaugurato Wanda Metropolitana Wanda Metropolitana Wanda Metropolitana Viva Diocano Già non lo piccolioni guarda lì Porco Dio Secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Secondo me Antoine Griezmann Ma cosa per l'altro cosa? L'ha demolito il coso Tra l'altro ultimamente si sta specializzando E fa colpire di testa Ma G-Mélix Ma cosa si chiamava Deccan Gli sente calderà Gli sente calderà Egli sente calderà Andiamo a fare il caso di Formula 1 Ma no Non mi ricordavo il nuovo Sono partiti con molta determinazione Stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile Certo per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva Porco Dio Se ne va La butta in mezzo Porco Dio Quanto cazzo è forte di testa Ma se per sta roba fa porco Dio Un cross perfetto Non poteva sbagliare C'era scritto basta spingere Ha colpito bene Con perfetta coordinazione Gran colpo di testa Esatto L'Atletico Madrid Comincia malissimo la gara Alla Maradona Cerca di allungare il gioco Cerca la profondità Sulla fascia E passa Maradona Ottimo Maradona è portiere No Potete tirare Prova caldo Dio Porto Dio Cosa ha preso Il miracolo di Oblak Esatto Perché è reggito proprio bene No Ma era molto pericoloso Affanculo Perché è una fatica da fare Di scambolato Una roba alzionata Il miracolo di Oblak Bello Che cazzo fa? Quando tocca la palazza Allaiga sulla fascia Che cazzo abbiamo la trasforma Dino porco cosa Ma ma è assurdo che io faccio i grossi segni Di quei punti Miracoli Vabbè Incarnata Alla Hai dato l'operazione Gioca 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 Senza ragione con la verticalizzazione Guarda che immagino Ecco Griezmann Per Sanico Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Giordi Alba cerca di pescare il compagno là davanti Nevole Ehm Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia La buzzata e colpisce di testa Cristiano Ronaldo Palo 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 Questo No Sto spegnendo eh Spengo eh Sto andato perso Dio porco No questa la salviamo Chi è Chi è Palla in profondità sulla fascia C'è fallo L'arbitro lo richiama in modo deciso L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli cercare di farlo ragionare perché rischia di peccarsi un cartellino se continua a me Palla larga e il profondità C'è poi selezionare un portatore tuo anche in mezzo all'area Si rivela la galle No le buggate che fai Gli fanno anche lag Madonna Non è stata una parata perfetta Ma se l'è cavata Eh lo visto anch'io sto lagge però non E allora sei tu che laggi Che cazzo dici Diego Cambia la connessione Poi ma la scherazza No va bene Ma che accanto però Saúl Bella rete di passaggi Che la roba lì di afghano eh No non ci devo Dai Dai Lungo passaggio in avanti Griezmann Cerca la fondo sulla sinistra Buono l'intervento del difensore Che concede con un calcio d'acolo Non sa Se no ti compara un'altra guarda Si si potrebbe Madonna E' un po' difficile Ma era un difensore poi Era Griezmann già la vedi che è andato vicino Ma eh Ah cos'è questa settimana Sto il cazzo del portiere Si è ombra che mi sembra di uscire Qui ha questo intanto Ma che tiro Evidentemente manca loro Evidentemente manca loro la tranquillità Non dobbiamo fare il video qui E con questo segna una doppietta Davvero una grande partita Vabbè l'ancarico anche questo Vabbè Vittorino Può gestire un comodo vantaggio di due reti Magari possiamo salvare le reti Questo colpo possono affrontare il match con maggiore tranquillità Vabbè salvo la partita Si spingono avanti Vediamo cosa inventa Decide di sfruttare una piccata Cavitella Vabbè 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 Tuttupare Siamo messi di merda A volte la tattica Vabbè Vabbè Le ponele era un allenatore diverso da Mourinho Non è Mourinho questo È Aramburi Sì Aramburi Allarga sulla fascia Arriva il cross di Chrisman No Anticipato troppo Eh Ne ricordi Saul Palla in avanti verso il compagno Ecco un'occasione di contropiede Osei Jimenez perde l'equilibrio E' forte No Dio Can Ci prova Grande giocata al volo Ottima la tecnica di esecuzione E' mancata solo un po' di precisione Cosa fai schiato? Cristiano Ronaldo viene fermato Posizione regolare Pensavo che avessi fiscato quello di Grisma Perché giocava Non aveva fatto Grisma No perché era sotto Ero sotto Vabbè Prima Grisma Dopo ho visto che sei andato un po' Si è andato avanti E allora ho preso Romano Pensavo che fattessero la cagata Che Ha scavalcato il portiere con un tocco morbido Veramente un gran gol Che partita eccezionale Cagate no E' in uno stato di forma di poco strepitoso Poi non ho capito Primo tempo che finisce qui Si è vista una sola squadra in campo No ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siamo stati Guarda che non ho mai un cazzo di rp E' di sì Ma cos'è l'rp che non capito? Rp è ricezione passaggi Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari Tu hai poco difesa provattiva E' strulino Allemani sulla partita dopo 45 minuti intensi E tre gol in dote con cui iniziare la seconda passione Ci sono stiti in mezzo Sì 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 sotto Sì 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 sotto Le varie statistiche Partiti E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni Smaradona Se ne va Palla al centro Perché secondo me ha un po' di penna che che cazzo di piedi fai il cross Ommani a me non ha col destra e li fa di merda E quel sinistro invece Beh tu ne hai scoperto l'acqua calda E' ovvio le maladona Sì vabbè però di hoc anche tipo quello di adesso Prova cambiare la situazione con una giocata in avanti Griezmann con la palla alta sulla fascia Poteva essere un contropiede interessante questo Peccato Tocco morbido E pass Cristiano Ronaldo Il portiere si oppone in maniera eccezionale Racki Kic È pronto Batterà tra poco il calcio d'angolo In cornata Mamma mia Ma si butta sempre per terra Dio porco Ma è sempre quadrato Si butta sempre per terra No Col cerchio E' un perfetto colpo di testa Questo è un colpo di testa da manuale La coordinazione perfetta E l'impatto con il pallone preciso Non mi ha afficcato di meno Non mi ha afficcato di meno Non mi ha afficcato di meno Ma veramente Risultato mai è assolutamente impossibile da ribaltare Ha la possibilità di andare verso la porta Griezmann Cerca il tuo confitante Suggerimento fuori misura questo Vedo che la difesa non sale più Non punta sul fuorigioco E vogliono proteggersi dalle imbucate Non concedono la profondità Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti E preferiscono affrontarli con prudenza Evidentemente la tattica è questa Ecco ma è una tattica giusta Secondo te fanno bene o fanno male Ma guarda Fabio Ogni strategia Che cazzo fa Eh ballo 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 Disco deciso dell'arbitro Si ripartirà con un calcio da fermo Che cazzo è sto Lugas L'arbitro è stato chiaro Questo è l'ultimo avvertimento O lo smette o si becca il cartellino L'arbitro l'ha avvisato Ora non può più permettersi di fare falli Ecco il tiro Un tiro cui non mancava certamente la potenza Ha mostrato grande reattività e riflessi Però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creato Raccoglie il rinvio e fa sulla palla Gabi Saúl Pallone alto e lungo sulla fascia Griezmann Scatta verso il pallone Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo E fa su il rinvio degli avversari La mette in avanti Cerca un compagno Cerca un compagno Che gol spettacolare di Vietto Che classe La sua conclusione fantastica Ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi Con questo gol dimostrano Quanto meno di non aver staccato la spina mentalmente Fabregas Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari Lancio lungo del portiere Jose Jimenez Era ben posizionato e ha intercettato il pallone Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica Vanno sfruttate decisamente meglio C'è tanto la conclusione Il portiere dice di no Bocca Devo incaricarlo tutto Dio caro Per buttarglielo Porco Dio le gomme No Dio caro Eh ma era giusto però Questo stronzo è uscito Vabbè Dio caro Dio caro Dio caro Dio caro Che scatto Pallone verso il pallone più lontano Vabbè Maradona Dietro 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 Osei Jimenez C'è la palla lunga in avanti Rakitic La mette al centro Bell'intervento del portiere Saul Scodella in avanti Appio L'appoggio sulla fascia Jordi Alba Griezmann C'è il colpo di testa Eh vabbè Vabbè Passaggio avanti Passaggio avanti Griezmann Va a raccogliere il passaggio Eh non so So i cucilazzi Dio viente Oddio Piazzone Ecco Saul Prova a verticalizzare Fabregas Palla larga In profondità Ah me la capito qui Me la capito Filippe 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 Guarda Gabi L'orologio segna Gli ultimi dieci E' lagge Plippi Maradona Cerca di sfruttare Lo spazio sulla fascia Andiamo a mettere Lo spazio sulla Sfilippe Ah Oddio Che avevo Fattito No Cerca di superare La di fortuna Sfilippe Dio porco Ma la stessa Sfilippe Io la metto Spengo No ma Ti fai una cagata Di queste Apparese Ti giuro Che cazzo Cioè Troverò Si ha rimesso Terale Dio porco Si rivincola E conquista La palla Cerca L'uomo La davanti Prova il filtrante Si rivela la grande Si rivela la grande Si rivela la grande Cerca il numero Prova la giocata Cristiano Ronaldo Beh non è stato Un gran tiro Da lì poteva fare Decisamente meglio Cristiano Ronaldo E' andato Vicinissimo La rete E' decisamente Un gran Troverò Ma la voglio proprio Vedere Se fa ste palate Dio porco Beh non è mai Di settimana E' armi Isco Prova a giocarla In profondità Guarda che il tunnel Ma fata Porto Dio Volebbero Le parti 600 mila Di più Che cazzo Vado a meno 300 Dio Cazzo Ma è mancavo Filipe Scodella in avanti No Attenzione al tiro Madonna Puttano Deve dire carlato Vabbè Vabbè E' fin Vabbè Che cambio Che cambio Fai Non c'è più tempo Finisce qui E' sta vincendo Trovando spesso I gol E trovando anche spesso La difesa avversaria In preparata 4 a 1 Finito 4 a 1 Finito Poi sono stati Molto bravi A gestire la gara Senza concedere Togli avversari Non ho un cazzo Di pd Di sia